un anno alle elezioni ecco i comuni al voto 65 anni scomparso trovato senza vita nelle campagne di fossombrone revocati di vieti di balneazione alle foci di foglia e genica domani ultima campanella sulle primo anno scolastico post covid lotta all'infarto pesero all'avanguardia nella prevenzione gratuita una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 9 giugno che apriamo parlando di politica perché tra un anno esatto ci sarà la chiamata alle urne per le elezioni amministrative una votazione che cambierà la geografia politica della nostra provincia di quella di pesero urbino perché i comuni alle voto saranno 39 su 50 vediamo il servizio 9 giugno 2023 9 giugno 2024 manca un anno esatto alle elezioni amministrative che verosimilmente saranno abbinate nello stesso weekend già fissato per la tornata elettorale delle elezioni europee un anno che chiamerà il voto la maggior parte della provincia di pesero urbino visto che ad eleggere il sindaco per il prossimo lustro saranno 39 comuni su 50 una geografia amministrativa che cambierà molte figure di riferimento visto che sono a scadenza di secondo mandato quasi tutti i comuni più popolosi a cominciare dai comuni capoluogo dopo dieci anni terminerà infatti l'amministrazione di matteoriccia pesero e quella di maurizio gambini ad urbino cambierà anche l'amministrazione della terza città delle marche con massimo serie a fine ciclo termina anche il doppio mandato di palmierucchielli non solo da sindaco ma di fatto da fondatore della città di valle foglia così come finisce il doppio mandato di cinzia ferri nel limitrofo comune di montelabate ai titoli di coda anche l'amministrazione di francesca paolucci a tavuglia e quella di domenico pascuzzi a gabice mare si chiude anche il ciclo di enrico rossi a cartoceto di massimo ciccolina d'urbagna e di alberto alessandria cagli questo il quadro che riguarda i comuni pesaresi sopra i 5.000 abitanti quelli che stando alle norme attuali sarebbero esclusi dalla possibilità di un terzo mandato terzo mandato che oggi sarebbe percorribile per i sindaci attualmente in carica da nove anni e che saranno chiamati al voto a gradara cantiano apecchio belforte lisauro lunano mercatello sul metauro monte cerignone petriano monte porzio monte calvo in foglia san lorenzo in campo serra santabondio e pietrarubbia idem per daniele grossi nel comune di recente unione sassocorvara auditore 11 comuni al voto in cui il sindaco in carica terminerà il primo mandato ovvero acqualagna frontone monte felcino bombaroccio monte grimano terme peglio pergola pian di meleto san costanzo piobbico e sant'ippolito tre invece comuni al voto in cui il sindaco in carica è al termine del terzo mandato ovvero fratte rosa borgo pace e macerata feltria e cambiamo argomenti ed occupiamoci di cronaca nello specifico di una notizia che arriva dalle campagne di fossombrone dove i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di un pensionato di 65 anni g.c le iniziali dell'uomo forse impronese la cui scomparsa era stata denunciata dalla moglie ieri dopo che l'uomo si era reso irreperibile lasciando cellulare e documenti in casa dopo una notte di ricerche la macabra scoperta del sospetto suicidio ed è stato revocato il divieto di balneazione nelle aree costiere di pesaro relativo a baia flaminia in prossimità della foce delle foglie e a sud della foce dell'eggenica ieri lo sforamento dei valori minimi per la salute pubblica rilevati da arpa ma avevano imposto uno stop alla balneazione che è durato appena 24 ore oggi ulteriori analisi hanno rilevato il rientro dei parametri della norma consentendo di nuovo la possibilità di notare in questi due tratti del litorale che come potete vedere in queste immagini si presentavano questa mattina ancora con una colorazione alterati in seguito ai recenti eventi di maltempo ed è proprio nel tratto terminale delle fiume foglia che inizieranno lunedì due settimane di lavori per rimuovere 4000 metri di ghiaia si tratta di un intervento ritenuto urgente per ripristinare il pieno flusso dell'acqua e per consentire ai natanti l'uscita marina e sicurezza risolvendo l'annosa problematica che si ripropone ogni anno e che interessa circa mille barche l'importo è finanziato dalla regione marche per 140 mila euro e lavori di rimozione prevedono il prelievo della ghiaia attraverso una chiatta galleggiante collocata sulla sponda sinistra delle fiume detriti che saranno poi trasportati via camion in un deposito e per circa 200 mila studenti marchigiani suonerà domani mattina l'ultima campanella dell'anno scolastico 2022-2023 il primo finalmente vissuto a pieno senza le limitazioni del periodo covid per le quinte superiori fissata per il 21 giugno la prima prova di esame di maturità tornando anch'esso con l'abituale formula pre pandemia per tutte le altre classi il rientro sui banchi nelle marche fissato per il 13 settembre 2023 e pesaro capitale della cultura 2024 aggiunge nella sua lista un luogo di indubbio fascino ovvero palazzo ducale sede della prefettura che da domani riapre le sue visite guidate da sabato 10 giugno il gioiello di piazza del popolo il palazzo ducale nonché sede della prefettura torna ad aprirsi al pubblico grazie all'accordo tra la fondazione pescheria centro arti visive e federa git confesar centi peser orbino le visite saranno accompagnate da guide turistiche che spiegheranno la storia e la bellezza di tutti i luoghi più caratteristici del palazzo il cortile d'onore l'appartamento della duchessa l'appartamento del duca e il salone metaorense il martedì e il giovedì sono previsti due turni di visita alle 16 e alle 16.45 mentre il sabato alle ore 10.30 sì è una collaborazione che continua già iniziata nel 2021 con un accordo sottoscritto e che si riaprono finalmente diciamo le porte della prefettura del palazzo ducale quest'anno con una novità perché abbiamo dato anche la disponibilità a far visitare l'appartamento del duca che finora non era oggetto di visita dove ci sono i nostri uffici quindi c'è anche il mio per cui dovrò cercare di far sparire tutte le carte che sono sulla mia scrivania però detto questo siamo ben felici di poter far visitare insomma anche altri locali molto molto belli davvero allora già da sabato inizia la visita e poi ci saranno mi pare martedì e giovedì e il sabato mattina il martedì e il giovedì di pomeriggio e poi il sabato mattina consiglio di visitare il palazzo ducale perché è un palazzo bellissimo è il simbolo di pesaro ci sono dei soffitti che sono veramente stupendi poi dei camini che sono meravigliosi c'è il salone metauranza che è veramente uno splendore insomma è davvero un bellissimo luogo da visitare in cui apprezzare il bello il palazzo è della città il palazzo è dei cittadini poi dal 1860 c'è la prefettura va bene continuiamo a stare è un museo vivente dove ci sono delle cose da ammirare ci siamo noi che lavoriamo quindi è bellissimo perché è un palazzo che viene vissuto giorno per giorno ma faremo anche tante cose per pesaro capitale della cultura 2024 perché abbiamo voglia veramente che sia vissuto anche in momenti piacevoli allegri di festa diciamo è un po' il monumento che ci rappresenta è una chicca che abbiamo all'interno del centro storico di pesaro era molto importante riaprirlo farlo vedere io personalmente l'ho visto in una delle giornate famose un po' di tempo fa ma vederlo con accanto una guida che ti spieghi anche magari l'aneddoto nella singola stanza piuttosto che la disposizione di una betrata all'interno di una serra ecco queste sono cose che comunque danno piacere e arricchiscono poi il pubblico che visita questo tipo di monumenti importante e qui devo ringraziare Sua Eccellenza il prefetto che comunque ha dato ampia disponibilità le nostre guide di aprire e di visitare il palazzo non è così scontato farlo perché comunque è sede di prefettura e di uffici importanti ecco è una cosa bella anche in funzione in vista anche della capitale della cultura del 2024 un passo importante e anche l'amministrazione comunale ha fatto un bel passaggio per riuscire a portare a casa anche questa cosa avere cura delle proprie cuore e farlo attraverso interventi di prevenzione gratuita e questa è la possibilità che ogni martedì e giovedì offre il centro alla prevenzione delle malattie cardiovascolari di Pesaro da quasi dieci anni il centro di prevenzione delle malattie cardiovascolari in via Petrarca nel quartiere Muraglia di Pesaro ha visitato e monitorato migliaia di cittadini della provincia di Pesaro Urbino delineandone gratuitamente profili di rischio rivolti alla prevenzione all'infarto e all'ictus calibrati su ogni singola persona e sui risultati delle rispettive analisi del sangue un lavoro coordinato dalla Fondazione per la lotta contro l'infarto istituita dal professore Ernesto Sgarbi che ebbe uno stop forzato dalla pandemia e che ora ha recuperato gran parte delle visite in lista d'attesa tornando a dare la possibilità a tanti cittadini di godere di un prezioso screening con visite effettuabili in tempi brevi rispetto alle prenotazioni abbiamo la possibilità di testare chiunque voglia conoscere il proprio profilo di rischio cardiovascolare la cosa interessante è che nella regione Marche è l'unico centro che può fare questi controlli quindi qualsiasi cittadino voglia conoscere il profilo di rischio può venire tramite un appuntamento con la segreteria a valutarlo facciamo un test molto importante per l'esclusione della fibrillazione atralesilente che vuol dire la persona non si accorge e porta con sé questa alterazione del ritmo in il quale l'atrio batte in modo molto caotico questo è molto importante perché se il riempimento vascolare ventricolare non è perfetto anche in periferia il sangue non arriva e si rischia l'infarto che può essere di qualsiasi organo però noi ci concentriamo solamente e soprattutto su quello cerebrale, quello cardiovascolare e coronarico poi facciamo qui con le nostre macchinette dei test molto veloci prendiamo il sangue dal dito, poche gocce l'importante è che la persona sia a digiuno e valutiamo i parametri del profilo glicolipidico quindi colesterolo totale, il buono, il cattivo, i trigliceridili e gli zuccheri poi con la parte infermeristica, peso, altezza, pressione se con delle domande, se fumano i farmaci che prendono facciamo un quadro generale, calcoliamo l'indice di rischio cardiovascolare noi rivediamo le persone anche a distanza di tempo e ci fa molto piacere quando vediamo che le persone hanno preso sul serio la cosa si sono impegnati nell'attività fisica, nel cambio dell'alimentazione dove noi diamo qui dei consigli e ovviamente questo è un traguardo il traguardo che vogliamo raggiungere, avere una popolazione più sana esatto, le persone un pochino più recidive ovviamente le rivediamo insistiamo, dove riusciamo a penetrare e a comunicare noi siamo molto contenti anche perché dedichiamo una mezz'ora a tutte le persone questo lavoro lo facciamo anche nelle scuole quindi c'è un progetto scolastico che si chiama progetto cuore scuola a tutt'oggi abbiamo fatto circa 18.000 alunni sempre con il permesso dei genitori parliamo di ragazzi studenti che vanno dai 14 ai 18 anni fanno le analisi del sangue, solo il colesterolo all'interno delle scuole in accordo con i direttori scolastici dopodiché il risultato viene dato in busta chiusa ai genitori e con l'invito di venire in centro, al centro di prevenzione a fare ulteriori test nel caso in cui si riscontrano delle anomalie questa è una cosa molto bella che stiamo facendo e facciamo circa mille alunni all'anno su tutta la provincia di Pesaro da anni sostenuta dai preziosi finanziamenti di Banca di Pesaro la fondazione dà la possibilità di aver cura del proprio cuore gratuitamente offrendo visite ogni martedì e giovedì su prenotazione chiunque voglia conoscere il proprio profilo di rischio può telefonare in segreteria il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30 facendo lo 0721 54221 la segretaria darà tutte le indicazioni per come venire a fare il controllo quindi sicuramente è stomaco vuoto perché sono analisi questo non è un centro cardiovascolare quindi noi non facciamo elettrocardiogrammi noi ci atteniamo solo a valutare il profilo di rischio di ogni cittadino che sta bene e vuole conoscere che strada sta percorrendo e partono invece domani le consulenze gratuite dedicate alle patologie ai disturbi a carico delle mani già 80 le visite prenotate per esami che si terranno alla casa della salute di Vallefoglie in occasione delle 10 giugno, giornata nazionale della salute alla mano e anche quest'anno Comune di Pesaro e Adribus confermano le navette gratuite verso le principali destinazioni balneari della città da domani sarà attiva la linea notturna che si aggiunge le già attivate navette che servono a Viale Trieste e Sottomonte dalle 17 giugno parte anche la navetta di collegamento a Baia Flaminia sospesi invece la linea per il San Bartoli in attesa di ripristinare la strada che dalle borgo conduce alla spiaggia interrotta dalle recenti frane e continuano le iniziative ambientali ed educative dell'associazione pesarese Plastic Free questa mattina 80 ragazzi dell'istituto comprensivo di Vila San Martino hanno partecipato ad una passeggiata ecologica nelle parco Miralfiore ripulendo l'area verde dai rifiuti in plastica e a Roma nella sede dell'associazione della stampa estera in Italia Confcommercio Marche Nord ha presentato la sesta edizione dell'itinerario della bellezza nella provincia di Pesaro Urbino una prestigiosa vetrina per il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio arrivato a contare oggi bene 21 comuni Alle fianco delle direttore Varotti hanno partecipato alla presentazione anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e le parlamentare pergolese Antonio Baldelli Ultimo appuntamento con la stagione teatrale della piccola ribalta a chiudere il lessipario domenica 11 giugno alle ore 18 saranno la magia e l'incanto di Io Pessoa e i miei levolti a curare la regia Antonella Gennari e Mario Cipollini E cambiamo argomento perché parliamo anche di sport una notizia che è arrivata proprio in queste ultime ore perché si chiude un'era nella comunicazione sportiva della città di Pesaro dopo 35 anni Elio Giuliani lascia l'incarico da responsabile comunicazione della VL per motivi personali La società Vittoria Libertas, ribadendo l'infinita gratitudine per il suo operato ha stabilito di conferire a Elio Giuliani la carica di dirigente onorario delle club Accessibilità e disagio giovanile diventano temi interpretati dagli studenti delle scuole superiori attraverso cortometraggi Tre cortometraggi realizzati dai licei Marconi e Mengaroni affrontano il tema dell'accessibilità spostando il punto focale dell'attenzione dalla disabilità fisica a quella emotiva Quella che produce sentimenti di disagio, inadeguatezza ed esclusione Un'esternazione di stati d'animo in forma cinematografica che è il risultato del progetto WeFamily del bando regionale Facciamo Parte L'Unione Cecchi e Ipovedenti è stata capofila del progetto prodotto dalla compagnia teatrale Asini Bardasci Abbiamo coinvolto le scuole perché comunque è da lì che parte poi il concetto di inclusione ma un'inclusione che non volevamo trattare come disabilità ma volevamo parlare del disagio di tutti i giovani che oggi è molto frequente soprattutto la solitudine, la diversità emozionale, l'isolamento e quindi ci premeva trattare questo argomento e i ragazzi lo hanno fatto veramente bene hanno realizzato dei corti molto molto piacevoli Presentati in comune i cortometraggi Iperuragno e Sottosopra degli studenti del Mengaroni e in fondo alla solitudine del Marconi Tutti i tre cortometraggi hanno una tematica molto intima per certi versi e anche che fa riflettere su quale sia il loro vero disagio cioè tutte le loro realtà, tutti i loro tre cortometraggi hanno dimostrato un distacco da quello che forse in maniera patinata noi stiamo sempre più cercando Sono dei cortometraggi dove l'audiodescrizione non è un tema solo accessibile per dare la possibilità a persone non vedenti di poter ascoltare e quindi vedere il film ma diventa tutto tondo una forma artistica, un pieno diciamo che in qualche modo la forma del tutto così la cosa, insomma il progetto stesso Secondo me siamo gli anticipatori noi come generazione di una società sempre più libera di una società che ti permette di esprimerti come meglio credi senza opprimerti troppo perché riesci a avere persone che ti sostengono Giovani sui quali si ripongono speranze verso un cambio di prospettiva su un tema dell'accessibilità su cui c'è ancora tanto da lavorare Se non altro ora se ne parla Devo dare atto al Presidente del Consiglio Comunale che ha cominciato da quando ha avuto la delega a parlarne quindi ad occuparsene però ancora c'è tanta strada da fare ma vedi non tanto sulle barriere architettoniche perché comunque quello che è stato costruito non è facile da adattare ma a livello culturale, sulle barriere culturali perché le barriere architettoniche che ci sono già ok un palazzo del 1400, del 1800, del 1900 è difficile da rendere accessibile ma il problema è che anche nelle nuove costruzioni c'è l'inaccessibilità anche nei nuovi progetti a volte non si guarda l'accessibilità perché accessibilità è solo avere una strategia diversa cioè guardare la situazione con occhi più ampi E a Pesaro è ormai un appuntamento fisso dell'estate quello con i concerti delle lunedì alla Pala di Pomodoro organizzati da APA Hotels concerti che in questa occasione, quest'anno, saranno aperti dall'esibizione dei finalisti di The Voice Senior Riniziano i concerti delle lunedì, sarà una grande programmazione quest'anno, partiremo dal 19 di giugno quindi tra pochi giorni con il primo grande concerto sperando di ripetere l'iniziativa di The Voice Senior che è stata sui canali televisivi con Mario Iudi e Claudio Morosi e poi proseguiremo invece con altre band di grande qualità per tutta l'estate fino a concludere i primi di settembre Novità, quest'anno avremo al Ferragosto invece un grande concerto della Tribute Band dei Queen band riconosciuta ufficialmente da Londra quindi ci attendiamo un grande successo anche per il Ferragosto Dopo il successo avuto a The Voice, come è tornare a cantare nella piazza della propria città? È proprio un onore ho sempre sognato essendo pesarese da piccolo vedevo a Pesaro cosa succedeva è una cosa che ho molto pensato chissà se un giorno toccherà anche a me è un grande piacere essere qui Ho otto brani I've got it under my skin My way Ladies and Trump e altre sono otto pezzi molto conosciuti Siamo molto felici adesso che nella prima estate realmente di normalità magari non climatica ma insomma legata alle situazioni post pandemia si possa tornare al meglio con il lunedì che è sempre stato un po' il giorno di avvio della settimana turistica dell'accoglienza per i gruppi in particolar modo che vengono in città con i pullman i gruppi organizzati e farlo con il meglio della musica locale e nazionale un modo per creare il giusto clima anche di festa per un'estate che si porta verso la capitale italiana 2024 a casa perché Pesaro è la mia seconda casa io ho studiato in conservatorio Rossini quindi sono cresciuto più qua che nella mia città che è Fano quindi sono entusiasta felice e appunto felicissimo insomma e cosa canterà? ma 7-8 brani quelli che ho presentato a The Voice Senior e anche altri del mio repertorio che ne so brani di un po' mezzo swing un po' rock Fausto Leali belle sorprese belle sorprese e il suo seguito è aumentato dopo The Voice? assolutamente sì anche perché The Voice ha avuto uno share incredibile il calcolo è tre puntate 18 milioni di persone quindi direi che abbiamo avuto ci siamo un pochino allargati il perimetro delle amicizie persone che ci seguono direttore dell'orchestra 35 musicisti che si esibiranno e aiuteranno i cantanti insomma nella realizzazione di questo evento l'orchestra è la San Marino concert band io faccio il maestro lì da una decina d'anni il mio passato però è molto televisivo ho lavorato molto nell'orchestra della televisione Canale 5 la RAI con Demo Morselli tutto il Costanzo Sciobano Domenica tante cose adesso da qualche anno faccio mi occupo anche di questa grande orchestra e abbiamo tanti spettacoli da portare in giro dove accompagniamo anche tanti cantanti tra cui questa serata molto importante alla quale io sono veramente onorato di partecipare di prendere parte facciamo questo spettacolo e credo che sarà una cosa meravigliosa gli arrangiamenti sono tutti originali tutta la band suonerà dal vivo 35 musicisti e quindi sarà una cosa un po' proprio al vecchio stile e con quest'ultima notizia termina qua questa nostra nuova edizione di Rossini News prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo le nostre prime serate perché questa sera tantissimi gli appuntamenti su Rossini TV sul canale 80 inizieremo subito alle ore 20 quindi subito dopo la prima edizione del nostro telegiornale perché rivedremo lo speciale televisivo che è stato realizzato domenica che festezza i 60 anni d'eccellenza di Trevalli Copperlat a seguire alle 21.20 quinto ed ultimo appuntamento con l'informazione dello studio medico del centro medico di Biolab in questa occasione questa quinta puntata vedremo appunto il percorso terapetico diciamo un po' dall'inizio alla fine di come viene preso in carico un paziente ancora un altro appuntamento alle 21.40 subito dopo Biolab rivedremo un altro speciale che abbiamo registrato sempre a Fano e sempre la scorsa domenica in questa occasione parleremo del Brodetto Fest 2023 il festival del Brodetto a Fano e proiettiamoci a domani mattina perché saremo come sempre in diretta con la nostra consueta rassegna stampa delle mattino in diretta alle ore 7.20 saremo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook a condurre la rassegna ci sarà il nostro Antonio Astuti e poi le repliche che vedete in grafica vi ricordo anche l'appuntamento con FixFit che da lunedì 12 giugno cambia orario cambia l'orario del mattino perché avremo l'appuntamento con l'allenamento da casa alle ore 9.30 e poi il pomeriggio invece rimane confermato alle ore 17.30 e questi quindi tanti appuntamenti e programmi che potrete vedere qua su Rossini TV io vi lascio le previsioni delle meteo vi auguro un buon fine settimana e non cambiate canale grazie a tutti